Amici di Teledeon, ben trovati a questo nuovo appuntamento con elettori ed eletti. Siamo davvero alle battute finali di questa competizione elettorale, poi il silenzio del sabato che precede il 20 e 21 settembre, quando soltanto i cittadini potranno tornare alle urne e con il loro voto decidere il futuro della Puglia a livello regionale con la scelta del governatore e con la individuazione del nuovo Consiglio regionale. Oggi incontriamo una delle protagoniste di questa tornata elettorale. Grazie per essere con noi, si tratta di Mariangela Matera, candidata al Consiglio regionale per Fratelli d'Italia. Bentrovate innanzitutto, lei è una neofita della politica e soprattutto una professionista, si occupa di una commercialista, una dottoressa commercialista, è componente dell'ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Trani ed è anche tesoriera all'interno della stessa organizzazione. Quindi conosce perfettamente il mondo del lavoro, delle imprese, del nostro territorio. Ma prima di entrare nei temi della competizione elettorale, dobbiamo ricordare che probabilmente a decidere le sorti di questa competizione saranno soprattutto gli indecisi. Gli indecisi sia quelli che non andranno proprio, hanno deciso di non andare proprio a votare, sia quelli che non hanno ancora deciso chi votare. Come fare a recuperarli? Bisognerà assolutamente recuperarli. Abbiamo il compito in questi giorni che verranno di recuperare gli indecisi. Gli indecisi e gli insoddisfatti, perché gli insoddisfatti sono quelli che dicono no, non mi piace quello che succede, sono scontenta del governo precedente, del governo regionale precedente, non vado a votare. E questo è l'atteggiamento più sbagliato, perché non è che non andando a votare si cambia qualcosa. Anzi, non andando a votare non si fa altro che confermare tutto ciò che di sbagliato è stato fatto. Quindi la protesta non va assolutamente fatta con l'astensionismo. Bisogna andare a votare, bisogna votare. Abbiamo giorni per decidere, per metabolizzare effettivamente quello che è stato detto in questi giorni. Abbiamo questi giorni per comprendere effettivamente che è necessario cambiare. Perché diciamo che la Puglia merita di essere a tutti i livelli, sia a livello nazionale, a livello europeo, di essere valida e di poter esprimere le proprie potenzialità. Ecco, potenzialità che mi sembra di capire lei non ha ritrovato nell'amministrazione ultima, quella di Michele Emiliano. Quali sono le pecche principali che lei riscontra nella linea guida di Michele Emiliano? Guardi, ci sarebbe un lungo elenco. Mi limito a dire la sanità, mi limito a dire tutto ciò che è successo per l'agricoltura, dall'axilella che ha le porte e che per noi rappresenterebbe davvero un gravissimo problema per la nostra agricoltura e non solo. Agricoltura, paesaggio, tutto l'indotto che intorno all'agricoltura si muove. E quindi l'agricoltura, la sanità, dicevo, le liste d'attesa, questo migrare di chi va al nord per farsi curare, poi la Regione Puglia deve pagare anche per tutti quelli che vanno al nord a farsi curare, che diciamo è una beffa. E quindi l'agricoltura, il PSR che non ha funzionato, i fondi europei che non sono stati spessi, la burocrazia, i corsi, diciamo le aziende che hanno difficoltà a trovare personale formato, perché effettivamente vengono pensati dei corsi di formazione già quando ormai di quella figura non c'è più bisogno. Invece le nostre bisognerebbe creare un collegamento tra i corsi di formazione, l'apprendistato, per quelle che sono le figure richieste dalle nostre aziende. Più di volte vengono fatti i corsi di formazione per i formatori, più colto che per i formandi. Ecco, la Puglia ha bisogno di tante cose. Soprattutto ha bisogno di avere una speranza di potersi agganciare al treno dello sviluppo che potrebbe arrivare attraverso l'utilizzo dei fondi europei, quelli messi a disposizione proprio dall'Europa per contrastare gli effetti nefasti della pandemia che si è trasformata poi in crisi economica. Ecco, di qui la necessità di avere persone qualificate, persone competenti, persone determinate e soprattutto chi è capace davvero di colpire nel segno, andare a trovare questi finanziamenti e a metterli in campo. Che cosa si deve fare? Infatti abbiamo un impegno impellente, cioè quello già di decidere quella che sarà la programmazione 2021-2027, capace di intercettare tutti i fondi, di eliminare quei colli di bottiglia che creano effettivamente la realizzazione di quei progetti, di eliminare la burocrazia e di creare lavoro, di promuovere le partite IVA, cioè perché solo gli imprenditori possono creare lavoro, creare sviluppo e creare quelle risorse per far sì che i servizi sociali possano funzionare, perché tutto possa funzionare, perché creando ricchezza si crea materia per le imposte, per le tasse e di lì prendere i denari per far funzionare i servizi pubblici. Indubbiamente. Ecco, lei in questi giorni di campagna elettorale ha girato in lungo e largo la sesta provincia pugliese. Che situazione ha trovato? Cosa le chiedevano i cittadini che lei ha incontrato? Attenzione, chiedevano che effettivamente fossero attenzionati, perché ogni città che ho visitato ha dei problemi, chiedono le infrastrutture, ho visitato Minervino, Spinazzola, Canosa, chiedono essenzialmente, perché Minervino è bellissima, però per arrivarci ce ne vuole. È un viaggio. È un viaggio, ma l'ho visitata anche di sera, è davvero molto bella. Quindi bisogna trovare, bisogna riprogrammare tutte le infrastrutture e bisogna creare lavoro, creare lavoro perché davvero i nostri imprenditori sono molto intraprendenti, molto bravi, ma molti di questi non hanno mai chiesto niente alla Regione, perché sentono la Regione lontanissima da loro e quindi bisogna creare un collegamento tra queste forze importantissime e determinanti per il nostro territorio e la Regione. Ecco, lei ha parlato di Minervino, di Spinazzola, di Canosa. Io ci aggiungerei, anche Trani, sono le quattro città penalizzate dal nuovo corso della sanità pubblica, con il taglio degli ospedali non sempre compensato dalla sostituzione con i servizi essenziali diffusi ai cittadini. Che cosa si può fare? La Regione impiega l'80-85% del proprio bilancio proprio nel tema di sanità. Andrea, poi non ne parliamo, ha all'orizzonte la realizzazione di un nuovo ospedale. Saranno determinanti i consiglieri regionali? Assolutamente sì, tant'è che siano stati chiusi questi ospedali senza che nel contempo ci fosse la realizzazione di un nuovo ospedale che potesse accogliere tutti gli utenti dei comuni nei quali erano stati chiusi gli ospedali. E quindi bisognerà ripensare a una riprogrammazione di tutta la struttura sanitaria anche e soprattutto della medicina territoriale. Fare sì che effettivamente i medici di base abbiano un collegamento con tutta quella che è gli ospedali, con tutte quelle che sono le strutture necessarie. Nonché riformulare, riorganizzare il pronto soccorso, la medicina di pronto intervento. E quindi ci sarà tanto da fare. Tanto da fare anche nel campo turistico, sfruttando anche le sinergie con l'agriturismo, l'agroalimentare che di questo territorio è davvero un'eccellenza e mettere insieme anche le risorse ambientali, architettoniche, paesaggistiche. Ecco, che cosa può fare la Regione per questo territorio? La Regione ha fatto molto negli ultimi anni per promuovere il marchio Puglia, ma la cenerentola di questa promozione è risultata essere proprio la BAT. Perché non si può pensare che promuovere il turismo sia soltanto promuovere una vetrina, cioè fare fiere, creare la festa della Sagra D. Bisogna creare tutto l'indotto, cioè bisogna aver cura di tutto l'indotto. E né si può pensare che l'agricoltura sia un settore a sé. L'agricoltura chiaramente porta con sé tutto, anzi crea tutto l'agroalimentare, il turismo, perché intorno all'agricoltura si può creare tantissimo. E quindi è necessario creare delle sinergie, avere un programma e fare sì che tutto creare infrastrutture, perché non si può pensare di creare le feste, le sagre e pensare che qui in Puglia possono arrivare gli stranieri con il treno o con la macchina. Bisognerà creare le infrastrutture, creare delle strade comode, creare un collegamento tra le città della BAT, perché effettivamente è necessario creare un collegamento. E quindi ci sarà tanto da fare anche da questo punto di vista. Turismo, agricoltura, abbiamo detto della sanità, però essenzialmente bisogna, lo ha già accennato, ripartire dalle imprese. Le imprese, lei è il suo lavoro quotidiano a prescindere dalla politica, le imprese hanno bisogno di intercettare i finanziamenti, ma hanno bisogno soprattutto che si rimetta in moto la macchina economica della nostra regione. Come si può fare? E hanno bisogno anche di tanta meno burocrazia, perché effettivamente non si può aspettare tanto tempo per avere delle autorizzazioni, non si può aspettare per un permesso, per accedere a un bando, non si può aspettare un anno e mezzo che quel piano venga approvato, perché dopo un anno e mezzo quel piano ormai è già obsoleto. E quindi bisogna sapere intercettare, innanzitutto bisogna avere un programma, non si può andare a accedere ai bandi così come ci arrivano, bisogna intercettarli bene, bisogna capire quali sono le esigenze del territorio e formulare i piani, i bandi in base a quelle che sono le esigenze del territorio e quindi una volta formulate intercettare queste risorse, saperli incanalare bene nei settori che sono trainanti per la nostra BAT o per la nostra regione e dopodiché poter accedere in maniera concreta e in maniera fattiva. Ecco, lei ha impostato tutta la sua campagna elettorale come una sorta di grande campagna di ascolto, ha voluto ascoltare tanta gente, quando andava agli incontri più che parlare lei e raccontare qual era la sua visione della Puglia, ha cercato di capire quali erano le esigenze di questo territorio. La prima naturalmente la diamo per acquisita è quella del lavoro, che altro? Chiedono sicurezza, hanno bisogno di sentirsi sicuri e di avere degli interlocutori, hanno bisogno di avere qualcuno che li ascolti, perché guardi, andare in giro e ascoltare sì, ma capire anche quelle che sono le reali esigenze e quelle che sono le idee, perché molti dei nostri imprenditori hanno delle idee fantastiche, effettivamente sono capaci di tirar fuori il meglio di loro anche nelle difficoltà. E quindi io non ho fatto promesse, assolutamente non ho fatto promesse, né ho dato loro un programma. Anche il programma del del candidato presidente è un programma che è venuto fuori negli ultimi giorni, è un programma che io definisco aperto, nel senso che non è definito, ma che può subire delle variazioni sulla base di quelle che sono le reali esigenze della nostra regione. E quindi è stato anche molto criticato questo fatto che il programma sia uscito negli ultimi giorni, però io credo che è un programma che viene fuori da quelle che sono state l'ascolto e quindi le reali esigenze della nostra regione. Ecco, a questo proposito abbiamo detto il lavoro è la prima base, la prima emergenza, la seconda è quella di cercare di rimettere in piedi la nostra economia, poi c'è il welfare, tutta la situazione degli ultimi, di quelli che si trovano in grandi difficoltà, quelli che hanno in casa i portatori di disabilità, come fare a tener conto anche degli ultimi? Creando ricchezza, creando ricchezza attraverso le imprese e quindi avendo la base per poter creare, per poter poi prelevare i denari necessari per aiutare gli ultimi e anche formulando delle proposte, per esempio le spiego, c'è stata una proposta, una legge ormai che è stata promossa dall'opposizione, che praticamente promuove una sorta di lavoro per chi assiste i disabili. Praticamente ci sarà proprio una forma di, invece di dare il reddito di cittadinanza, una sorta di reddito di accompagnamento. Ma nemmeno, cioè praticamente il disabile che avrà bisogno, che è magari esperto in computer, avrà la possibilità di avere un assistente che sarà retribuito e quindi il lavoro che questa persona fornirà sarà retribuito e quindi è una forma di incentivo anche sia per il lavoro e sia di assistenza per chi effettivamente non può accedere al mondo del lavoro. Benissimo, siamo arrivati in chiusura di questo spazio. Io vorrei lasciarle gli ultimi minuti, tre minuti, per così dire, raccontare agli elettori della provincia di Barletta Anderatrani. Per quale motivo bisognerebbe scegliere Raffaele Fitto alla guida della Regione Puglia? Per quale motivo scegliere Fratelli d'Italia come lista da votare? Per quale motivo scegliere proprio Maria Angela Matera? Allora, innanzitutto credo che sia un dovere andare a votare, perché è un diritto che abbiamo acquisito con tanti sacrifici, noi soprattutto, e quindi con tante lotte e quindi è necessario andare a votare, che la protesta non la si attua non andando a votare, ma bensì andando a votare, che abbiamo la necessità di un cambiamento dopo 15 anni, è necessario riportare la destra al governo della nostra Regione, che dopo tanto tempo la destra va unita e anche questo, diciamo, è un merito, è un valore. E per me è importante votare Fratelli d'Italia, perché il partito, secondo me, è guidato da una donna coerente, che fa dei fatti la sua bandiera, che non sta lì solo ad attaccare i suoi avversari, ma è una persona coerente, che ha dimostrato con i fatti quello che si può fare per il governo e per la Regione, e di votare Maria Angela Matera perché sono un volto nuovo che ha deciso di mettere la propria faccia al servizio del bene comune e sono convinta che con la mia determinazione, con il mio impegno potrò fare moltissimo. A proposito, prima di chiudere abbiamo ancora qualche secondo. Giorgia Meloni è stata qui ad Andria, che cosa ha lasciato, che segnale ha dato? Ma tanto entusiasmo, tanto entusiasmo di gente che era veramente contenta di poterla incontrare, di poterle stringere la mano perché apprezza molto il suo modo vero, il suo modo verace di fare, il genuino di dimostrarsi alla gente comune. E allora ringraziamo Maria Angela Matera, candidata alla Regione Puglia, al Consiglio regionale pugliese, nella lista di Fratelli d'Italia. Grazie per essere stata con noi. Lei ovviamente sostiene con la sua lista l'elezione a Presidente della Regione Puglia di Raffaele Fitto. Grazie ancora per essere stata con noi. Non andate via, restate con i programmi di Teledeon. Grazie. Grazie.